Finalmente italiani a tutti gli effetti, colori, etnie e razze insieme per accogliere come civis i giovani studenti figli di stranieri manati nel nostro paese. A Barletta 18 ragazzi sono stati battezzati cittadini italiani in occasione della giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera. Il riconoscimento dello Ius Soli salda così il rapporto tra i giovani studenti e la comunità barlettana che li ha accolti a braccia aperte. In tanti alla cerimonia alla quale hanno partecipato ospiti d'eccezione come gli sportivi Ahmed Fall, giocatore del Barletta e l'atleta veronica inglese. Il fatto di integrarli è sicuramente fondamentale anche perché è puramente discriminatorio non considerare un ragazzino che come noi, come me, è nato a Barletta, è nato in una qualsiasi città italiana, non italiano. Dopo che ha frequentato la scuola, ha frequentato, ha fatto sport qui, non essere considerato italiano è veramente un'ingiustizia. Un incontro di storie e culture diverse in un colorato melting pot che suggella i principi della Costituzione italiana di non discriminazione o uguaglianza. Iusoli a chi nasce sul suolo italiano e quindi non può essere considerato uno straniero e ha diritto a vedersi riconosciuto quello che la città, una città moderna, una città progressista, una città civile soprattutto, già riconosce nella sua vita quotidiana. Questo credo che sia il modo migliore per costruire un futuro, un futuro tutti quanti assieme, un futuro da cittadini italiani.